7 e 13 gennaio 2022 sono le date nelle quali entrerà nel vivo l'iter per il vincolo paesaggistico sulla piana dell'Entella. Per il WWF potrebbe già essere un passo significativo per bloccare il seggiungo. Caltieri in autostrada, Regione Liguria chiederà al Ministero e ad Aspi una programmazione di almeno 6 mesi. Un cronoprogramma più efficace dovrebbe contenere i disagi al traffico. La lezione di Natale è l'umiltà, così il pontefice incontrando la curia romana per gli auguri natalizi. Un invito rivolto a tutti, quello di avere uno stile di vita improntato al servizio. La promessa nel quotidiano di una coppia di sposi, guardare al futuro insieme custodendo con la propria vita quella dell'altro. La riflessione nell'ultimo incontro d'avvento in Fontana Buona. Come Maria in cammino verso il prossimo, l'auspicio espresso al termine del concerto di Natale, dell'orchestra chiaveri classica a ribasso, una luce di speranza portata dalle armonie natalizie. Se si levante i premi al suo cittadino illustre, il nuotatore Alberto Razzetti. Consegnate una targa al campione mondiale nei 200 metri farfalla in Vasca Corta. Si chiude con una vittoria in trasferta 2-0 al Teramo, il 2021 della Virtus Entella. Inizia bene il girone di ritorno dei Bianco Celesti che raggiungono il quarto posto in classifica. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Il vincolo paesaggistico potrebbe essere già fondamentale per bloccare l'opera di mitigazione del rischio idraulico sulla piana del fiume Entella. Ne è convinto Marco Piombo, referente del WWF in Liguria, ieri presente alla riunione della Commissione regionale per il vincolo. Intanto si conoscono già le prime date del 2022 nelle quali l'iter prenderà il volo. Il primo servizio del giornale, lo vediamo insieme. L'amministrazione di Lavagna sta lavorando per convocare il Consiglio Comunale il 7 gennaio. La Commissione regionale per il vincolo invece tornerà a riunirsi il 13 gennaio. Date che scandiscono l'iter attraverso cui il Comune è chiamato a cancellare dal piano regolatore del 1999 la previsione di edificare sulla piana dell'Entella e ribadirne così la destinazione agricola. Un passaggio decisivo per giungere alla posizione del vincolo paesaggistico. Tutto potrebbe andare in parallelo, quindi sia Consiglio che la Commissione. Quindi se il Consiglio in breve tempo riesce a devviare la procedura, perlomeno la procedura di variante dal punto di vista urbanistico comunale del PRG attuale, è nel contempo la richiesta di variante anche al piano territoriale e al momento regionale che al momento prevede questa previsione di grosse edificazioni. Quali sono i tempi per poter arrivare poi al vincolo paesistico? Assolutamente dall'avvio della procedura entro 60 giorni dovrebbe concludersi. Speriamo di stare in questa data, che non ci siano intoppi o problematiche varie. Tutto sta che sia clienti che comunque ieri in Commissione si sono presi un impegno in breve tempo a concludere il tutto, quindi l'avvio dell'adozione della variante e nel contempo l'avvio dell'adozione per l'imposizione del vincolo. Per adesso non si sa quali potranno essere gli effetti della dichiarazione del vincolo paesaggistico per la Piana sui lavori al muraglione, l'opera di difesa spondale per la mitigazione del rischio idraulico. Sta di fatto che il vincolo potrebbe però cambiare le carte in tavola. Le problematiche secondo noi ci sono già, però sicuramente l'imposizione del vincolo potrebbe porre una pietra, diciamo, tombale su questo progetto. Potremmo. Parliamo ora dell'aggiornamento. Covid sono 1144 nuovi casi di coronavirus in Liguria con 6768 tamponi molecolari processati e 14.750 antigienici. Ci sono 9 ricoveri in più per un totale di 462 ospedalizzati, di cui 32 sono in terapia intensiva. Ci sono 5 decessi registrati oggi, di cui 2 in ASL 4, 2 uomini di 85 e 81 anni che erano ricoverati a Sestri Levante. Le persone guarite oggi sono 536. In ASL 4 i nuovi casi sono 101. I ricoveri scendono di 4 unità, in totale sono 26, di cui 2 in terapia intensiva. I vaccini anticovid somministrati oggi in Liguria sono 13.299. Di questi, 1.242 sono stati effettuati nell'ASL 4 chiavarese. ANAS ha proposto nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza del tunnel delle feriere la chiusura totale del collegamento per diversi mesi, 4 o addirittura 6. Una notizia che allarma gli abitanti della Val Fontanabona, soprattutto dei tanti lavoratori che ogni giorno raggiungono il capoluogo Ligure. Una notizia che preoccupa i sindaci anche in vista dei disagi sulla rete autostradale con la riapertura a gennaio dei cantieri. Mercoledì prossimo, 29 dicembre, si terrà una nuova riunione sull'avvio dei lavori nella città metropolitana. Regione Liguria chiederà a Ministero e a Daspi una programmazione di almeno 6 mesi. Parliamo dei cantieri sulla rete autostradale della Liguria che dal 10 gennaio torneranno ad essere attivi. Ne abbiamo parlato con l'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone. Lo ascoltiamo ai nostri microfoni. È scattato il periodo di allentamento dei cantieri in autostrada, come sta andando? I primi giorni dalla ripresa di questo allentamento natalizio sono giorni positivi. Una sospensione che durerà fino al 9 gennaio compreso, fino a domenica 9 gennaio, per poi dal 10 invece riavere una ripresa delle cantierizzazioni. Noi conteremo di incontrare il Ministero e Aspi ancora prima della ripresa dei lavori per accompagnare quelli che saranno gli inevitabili disagi delle nuove cantierizzazioni, almeno con una valutazione tecnica che ci consenta di avere un quadro completo che ci porti almeno fino alla prossima Pasqua, per non dire a inoltrata primavera, che è l'obiettivo anche delle aziende, delle categorie che ci chiedono capacità di programmazione. Lei in consiglio all'interrogazione ha detto che saranno lavori che dureranno anni. A che punto siamo? Lo dico perché è giusto essere realisti. 30-40 anni di mancata manutenzione o di deficitaria manutenzione non si riescono a recuperare in soli tre anni di interventi, ancorché molto impattanti. Penso ad esempio al rimontaggio delle nuove barriere fonoassorbenti, che da sola è un programma che dura circa quattro anni e che per adesso vede un progetto pilota in A7 in corso di realizzazione. Ovviamente speriamo che i prossimi anni, ancorché ancora lunghi, di manutenzione siano di una programmazione più efficace, magari calibrata meglio e soprattutto speriamo che gli interventi più impattanti, quelle sulle gallerie e sui viadotti vadano via via ad essere terminati, anche perché ormai sono più di tre anni che la Liguria, dopo il crogo del Ponte Morandi, patisce questi continui interventi sulle nostre infrastrutture. È stato approvato in Consiglio regionale il bilancio previsionale per il 2022 che prevede un impegno di circa 7,2 miliardi. Saranno circa 57 milioni per la nuova diga Foranea nel porto di Genova, 28 milioni per le infrastrutture e l'ambiente, 8,2 milioni per gli interventi del Comune di Genova, 7,7 milioni sulla riqualificazione urbana e l'edilizia scolastica, 6 milioni per sport e un milione per la lotta alla mafia e il recupero dei beni confiscati alle mafie. Il 2022 sarà l'anno della definitiva ripartenza del nostro Paese e della nostra Regione. Così ha spiegato il Presidente di Regione Liguria e anche Assessore al bilancio Giovanni Totti. La manovra sarà caratterizzata dal proseguimento del sostegno alle famiglie, concordato con le organizzazioni sindacali e l'attenzione agli investimenti e alla sostenibilità ambientale. Il consigliere regionale Claudio Muzzo di Forza Italia chiede chiarimenti sul futuro del reparto di medicina oncopneumo-ematologico dell'ospedale di Sessi Levante che a causa dell'emergenza sanitaria è stato destinato ad altro e i 20 pazienti sono stati trasferiti in altri posti letto. Muzzo ha annunciato un'interrogazione in Consiglio per chiedere qual sarà il destino del reparto OPE al termine di questa emergenza pandemica. Manca il numero legale e il bilancio non può essere approvato. È quanto è accaduto nel Consiglio Comunale di lunedì 20 dicembre a Chiavari per cui è stato riconvocato il 30 dicembre alle 21.30 in videoconferenza. Il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Segalerba ha detto che il numero legale c'era durante la chiamata al voto ma in un secondo momento il Consigliere di minoranza Sandro Garibaldi della Lega si è allontanato senza partecipare al voto. Sono stati assegnati i contributi per le spese condominali e le utenze domestiche che il Comune di Chiavari ha erogato per le famiglie più colpite dall'emergenza sanitaria. L'esito del bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune e nei prossimi giorni sarà recapitata una comunicazione scritta ai soggetti idonei con l'importo del sostegno economico che riceveranno. In totale il Comune ha messo a disposizione più di 115.000 euro. La pagina ecclesiale del nostro giornale L'Umiltà è la lezione del Natale. Così si è espresso Papa Francesco incontrando stamane nella Curia Romana in occasione delle feste un invito valido per tutti così come l'appello ad avere uno stile di vita sul lavoro e non solo improntato al servizio. La sintesi curata da Radio Vaticano. Vediamo insieme. La Curia non è solo uno strumento logistico e burocratico per le necessità della Chiesa ma è il primo organismo chiamato a testimoniare il bene. Parlando ai membri della Curia Romana in occasione del Natale Il Papa ricorda che l'organizzazione da attuare non è di tipo aziendale ma di tipo evangelico. Il Papa chiede in particolare una forte testimonianza di umiltà. Se la parola di Dio ricorda al mondo intero il valore della povertà noi membri della Curia per primi dobbiamo impegnarci in una conversione alla sobrietà. Se il Vangelo annuncia la giustizia noi per primi dobbiamo cercare di vivere con trasparenza senza favoritismi e cordate. Se la Chiesa percorre la via della sinodalità noi per primi dobbiamo convertirci a uno stile diverso di lavoro di collaborazione, di comunione e questo è possibile solo attraverso la strada dell'umiltà. Il Papa indica dunque tre vie per mettere in pratica l'umiltà e che stanno alla base dello stile sinodale la partecipazione, la missione e in particolar modo la comunione. Essa non si esprime con maggioranze o minoranze ma nasce essenzialmente dal rapporto con Cristo. Non avremo mai uno stile evangelico nei nostri ambienti se non rimettendo Cristo al centro. Questo partito, quell'altro, con l'opinione o quell'altra. Cristo al centro. Infine un messaggio, un invito valido per tutti. Solo servendo e solo pensando al nostro lavoro come servizio possiamo davvero essere utili a tutti. Siamo qui, io per primo, per imparare a stare in ginocchio e adorare il Signore nella sua umiltà e non altri signori nella loro vuota opulenza. Il cammino d'avvento nell'ambito pastorale della Fontana Buona si è concluso nella chiesa di Certenoli dove il tema conduttore della promessa è stato declinato nella quotidianità di una coppia. A portare la loro testimonianza Davide Bernardello e Maria Grazia Gandolfo. Ne ascoltiamo. E alla Sacra Famiglia di Nazareth che fanno riferimento Davide e Maria Grazia la coppia di sposi che ha portato la sua testimonianza nell'ultimo appuntamento del cammino d'avvento proposto ai fedeli dell'ambito pastorale della Fontana Buona. Nella chiesa di Certenoli i coniugi Bernardello, genitori di due figli e vicini al traguardo dei 25 anni di matrimonio hanno parlato della promessa nel quotidiano. Chi promette è una persona che si impegna prima di conoscere il risultato. Per compiere questo occorre avere fiducia quindi guardare avanti insieme. Quindi la relazione di affidamento l'uno verso l'altro non è solo guardarsi reciprocamente quindi come dire chiudersi nel proprio quotidiano ma in realtà è e questa è l'immagine secondo me che ci restituisce benissimo il Vangelo guardare avanti nella stessa direzione in una direzione che può essere anche sconosciuta verso un luogo che non si conosce e un futuro che magari non si sa io penso che questo per molti che come dire hanno fatto anche la scelta vocazionale del matrimonio sia stata come dire un'esperienza comune. Nella quotidianità c'è poi un altro aspetto identificato bene dalla figura di San Giuseppe egli custodisce Maria e Gesù con la sua vita e nel farlo trova compimento la sua promessa. Nel guardare insieme in una direzione comune e nel custodire la vita dell'altro con la propria è possibile scoprire quale promessa di bene ci sia ogni giorno per ciascuno di noi. La riflessione è stata conclusa con le parole di Hermes Ronchi in uno scritto incentrato proprio su San Giuseppe. Giuseppe rappresenta tutti i giusti della terra uomini e donne che prendendo su di sé vite d'altri vivono l'amore senza contare fatiche e paure tutti quelli che senza proclame e senza ricompense in silenzio fanno ciò che devono fare tutti coloro il cui compito supremo nel mondo è custodire delle vite con la propria vita. Il tradizionale concerto di Natale organizzato dall'associazione Simon Boccanegra Onlus quest'anno è stato ospitato nella chiesa di San Giuseppe ai piani di Ria Chiavari. L'esecuzione è stata affidata ai solisti dell'orchestra Chiavari Classica. Il repertorio tipicamente natalizio ha risconso i consensi del pubblico presente. Vediamo. Ispirato alla spiritualità natalizia Il concerto di Natale proposto dai solisti dell'orchestra Chiavari Classica ha portato una luce di speranza in un tempo ancora segnato da tante sofferenze. Nella chiesa di San Giuseppe ai piani di Ria Chiavari è stato proposto un vasto repertorio di canti della tradizione e musiche di grandi compositori da Campodonico a Mozart, da Vivaldi a Frank, Pachelber, Ortolani. Particolarmente intensa l'esecuzione di brani di Cohen e Morricone. Per aiutare il pubblico presente a calarsi ancor più nel profondo del mistero del Natale i brani musicali sono stati alternati da letture dedicate alla narrazione della Natività di Gesù. L'appuntamento, organizzato dall'Associazione Culturale Simon Boccanegra, è stato promosso da un cartello di associazioni. L'esecuzione è stata impreziosita dalle voci della soprano coreana Bijin Kim e dal contralto Isabella Herzfer. Il concerto è stato apprezzato dal pubblico presente al termine l'augurio dell'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore Giorgio Canepa e l'incitamento da parte di prete Rinaldo Rocca ad andare avanti con fiducia proprio come Maria, la madre di Gesù. Maria si alzò e andò fredda e credo che noi non dobbiamo vivere un Natale da prostrati, non da terreniti come ci sentiamo in questo momento, dobbiamo alzarci e andare. Il concerto di Natale sarà proposto proprio il giorno di Natale, sabato 25 dicembre alle 12.45 su Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando. Questa mattina in Comune a Sesti Levante ha spitato Alberto Razzetti per la consegna di un riconoscimento per i suoi straordinari successi sportivi. Il campione del mondo di nuoto ha ricevuto l'onorificenza dal sindaco Valentina Ghio ringraziando per la targa il giovane nuotatore Sestresa ha ricambiato il dono con una copia autografata della sua cuffia da nuoto. Noi eravamo presenti. Mi fa piacere ricevere questo riconoscimento dalla città perché come dico sempre io sono orgoglioso di essere di Sestri quindi ricevere un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale mi fa molto piacere e sapere comunque tanta gente a Sestri mi segue, mi supporta durante il mio percorso e le mie gare mi dà una spinta in più che sicuramente fa piacere quindi aver portato a rappresentare Sestri anche alle Olimpiadi che è il palcoscenico più importante per lo sport per uno sport come il nuoto mi rendo orgoglioso e spero di continuare a rendere orgogliosi tutti. Per l'impegno profuso quotidianamente nella pratica sportiva e per i successi finora conseguiti in ambito italiano e internazionale con una targa e questa dedica al comune di Sestri Levante e tutto il Tiguglio hanno voluto festeggiare il rientro in Italia del nuotatore campione olimpico reduce dall'ultimo successo conquistato da Abu Dhabi l'oro mondiale nei 200 metri farfalla in basca corta che ha coronato di fatto una stagione ricca di successi e già alle prossime sfide guarda nel nuotatore in forza le fiamme gialle. Il primo appuntamento importante saranno i campionati italiani assoluti all'inizio di aprile a Riccione dove ci si dovrà qualificare attraverso quelli per i mondiali di maggio e gli europei di Roma ad agosto e quindi direi che il prossimo obiettivo su cui sono focalizzate è quello e poi si vedrà in base a lì come gestire il resto della stagione. Riuscire a riconfermare i risultati del 2022 sarà difficile però chiaramente ci voglio provare rimanere a questi livelli non è facile ma io spero di aver appena iniziato e di poter continuare a confermarmi così e questi risultati a me danno molta fiducia nel lavoro che sto facendo e quindi sono fiducioso che anche l'anno prossimo si possa fare bene. Impegno, sacrificio e dedizione sono gli ingredienti che hanno permesso a Razzetti di raggiungere questi traguardi importanti valori che ha saputo raccogliere anche il fratello Enrico anche lui appassionato di nuoto che in Alberto ha un esempio e un buon maestro. tipo gli ho messaggiato la virata d'Orsorana qualche mese fa e quindi quando posso qualche consiglio glielo do chiaramente mi fa piacere che anche lui sia appassionato di questo sport e ci divertiamo a farlo quando gareggiamo insieme è sempre divertente quindi è bello poter condividere con qualcun altro queste cose qua. Questa mattina è stato inaugurato nuovo campetto polifunzionale nel quartiere di Caperana a Chiavari vicino al campo sportivo Daneri l'area sarà aperta tutti i giorni in inverno dalle 9 e mezzogiorno e dalle 15 e 30 alle 19 mentre in estate dalle 9 alle 12 e dalle 15 e 30 alle 21 ad occuparsi dell'apertura sono l'associazione Anteas in collaborazione con gli amici del circolo di Caperana i lavori hanno portato la totale riqualificazione dell'area verde e la realizzazione di un campetto da basket e da calcio è stato sistemato il marciapieda l'ingresso con una specifica rampa per l'accesso installato un sistema di canalizzazione delle acque piovane e predisposto l'impianto per l'illuminazione pubblica posizionando 6 nuove panchine ora parliamo di sport di calcio in particolare Morosini nel primo tempo Mercai nel secondo il 2021 della Virtus Entella si chiude con tre punti sul campo del Teramo nella prima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro la partita è finita 2 a 0 per i Bianco Celesti una vittoria che vale il quarto posto a 33 punti in classifica vediamo un 2021 che si chiude con una vittoria in trasferta quello della Virtus Entella che a Teramo contro i padroni di casa riesce ad imporsi per due reti a 0 grazie ai gol di Morosini e Mercai dopo il pareggio tre giorni prima contro la Fermana mister Volpe aveva chiesto maggiorcinismo e così è stato con la squadra che è riuscita a capitalizzare le occasioni create rischiando poco o niente in difesa primo tempo dai ritmi contenuti la prima occasione per i padroni di casa a tre minuti dal fischio d'inizio con un tiro da fuori di Bernardotto un minuto dopo risponde Lescano tiro potente ma centrale al sedicesimo fa le prove Morosini si gira bene il numero 20 ma la sua conclusione si ora al palo il primo gol arriva al minuto 25 a metà campo e bravo Paolucci a rubare palla serve Caric che crossa ci arriva Morosini che riesce a girarsi e trova lo specchio della porta e il gol 1-0 nella seconda frazione di gioco sempre poche le emozioni il gol del raddoppio per la Virtus Santella arriva al sessantesimo appena è entrato Capello suggerisce per Mercai sul secondo palo colpo di testa del numero 33 tenta un salvataggio sulla linea un difensore del Teramo ma l'arbitro indica il cerchio di centrocampo raddoppio bianco celeste e secondo gol consecutivo per Mercai ci riprova poco dopo anche Lescano azione fotocopie ma questa volta la palla non supera la riga di porta è un Gennaro Volpe estremamente soddisfatto quello che commenta il successo esterno della sua squadra al triplice fischio finale nelle ultime due partite avevamo raccolto molto meno rispetto a quello che avremmo meritato e avevo chiesto alla squadra uno sforzo ulteriore per regalarci un Natale sereno oggi con l'inizio del girone di ritorno per noi parte un nuovo campionato abbiamo il dovere e il diritto di pensare in grande e di provare a fare meglio rispetto a questa prima parte di stagione adesso qualche giorno di riposo per ricaricare le pile in vista del nuovo anno il prossimo appuntamento con il campo sarà sabato 8 gennaio al comunale di Chiavari contro l'Aquila Montevarchi nell'ultima partita abbiamo cercato di rialzare la china migliorando la nostra classifica conclude Volpe rincorrere e mantenere alto il proprio livello non è semplice ma questi ragazzi se manterranno questo spirito e questa voglia hanno tutte le carte in regola per fare un grande girone di ritorno scendiamo nei dilettanti la serie D Natale Amaro per la Lavagnese che in casa contro l'Asti perde per 1-0 gara in equilibrio per quasi tutta la partita fino alla rete di Toma all'86esimo se si levante invece è riuscita a strappare un pareggio 1-1 sul campo della Carronnese a segno è andato grosso a meno di 48 ore dalla Supercoppa Europea vinta in Ungheria la ProReco è tornata in Vasca battendo in casa la Nover nella sesta giornata della Champions League è finita 20-7 per i Rechelini sono davvero contento per la prestazione dei ragazzi segnare 20 gol in una partita di Champions League non è mai semplice ha commentato Mr. Sucno si chiude la prima parte di stagione posso dire cose positive dei ragazzi ci è mancato sicuramente non aver giocato la trasferta di Brescia ma la squadra ha fatto bene in questi mesi vuol dire che si sono allenati bene e che siamo sulla strada giusta così ha concluso l'allenatore della ProReco e ora siamo arrivati agli appuntamenti per la giornata di domani vigilia di Natale 24 dicembre può partire la sigla appuntamenti in agenda per venerdì 24 dicembre a Palazzo Fasce il Sesti Levante nella sala espositiva al secondo piano è allestita la mostra all'eredità del Cavalier Fasce aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 ultimo giorno per la mostra da Sesti a Chiavari seguendo la Fiuma Anabella allestita alla Galleria Grasso in piazza San Giovanni a Chiavari esposte fotografie scattate da Davide Valentino Solari col drone lungo il corso dell'entella dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 a Sesti Levante e sul sagrato della chiesa di Santa Sabina e Trigoso sarà allestito un ufficio postale dove ricevere l'annullo del presepe della parrocchia dalle 13 alle 17 alle 15 e 30 è atteso l'arrivo di Babbo Natale Natale nel mondo è il concerto della vigilia che va in scena nella chiesa di Santa Maria di Lorsica ci saranno Saranastos Mezzo Soprano Irene Pacini Organo e Roberto Salsedo Arpa l'inizio alle ore 21 La protezione civile Liguria e la protezione civile Arci Tiguglio hanno donato 5 kg di mele alle persone bisognose di Castiglione Chiavarese in collaborazione con il comune vedete la foto che si riferisce a questa donazione in vista del santo Natale Telepace invita i suoi telespettatori ad inviare la foto del proprio presepe potete inviare massimo due fotografie via Whatsapp al numero 320 3856 000 lo vedete in sovraimpressione verranno proposte durante la diretta di Natale con noi nel pomeriggio del 25 di dicembre Bene questa era l'ultima notizia del nostro giornale il prossimo appuntamento come sempre è per domani alle ore 12.45 con Tiguglio Oggi io mi fermo qui vi ringrazio per la vostra cortese attenzione auguro a voi e a tutte le vostre famiglie l'augurio di un sereno Natale arrivederci a presto